Sono l'avvocato Silvano Sacchi, socio e fondatore della Silvano Sacchi Associati, società tra avvocati. Oggi vi presento l'avvocato Paolo Cuminetti, il nostro esperto di diritto del lavoro, che ci parlerà dell'importanza dell'individuale personale qualificato e di come le norme e le leggi possono aiutare le imprese in questa attività fondamentale. Buongiorno a tutti, sono l'avvocato Paolo Cuminetti e oggi vi parlerò ovviamente di come la legge permette di trovare personale qualificato e quindi di fidelizzare il personale ricercato. La legge appunto ci dà degli elementi di fidelizzazione dei talenti da ricercare. Queste possibilità possono derivare o attraverso la stipula di quelli che vengono ad esempio chiamati patte di stabilità o clausole di durata minima a seconda che siano stipulate contestualmente alla sottoscrizione del rapporto di lavoro, al contratto di lavoro o successivamente alla stipula del contratto di lavoro, non sono altro che clausole attraverso le quali il datore di lavoro e anche il lavoratore si impegna a non recedere dal rapporto di lavoro per un determinato periodo di tempo. Clausole che generalmente e tradizionalmente sono previste per le componenti dirigenziali, ma che comunque possono essere stipulate per tutti i lavoratori, nei confronti di tutti i lavoratori. Altri elementi che la legge ci dà, altre possibilità che la legge ci dà è quello di concedere i cosiddetti fringe benefit o beni in natura o i cosiddetti flexible benefit. Altro strumento che la legge ci mette a disposizione per attirare i talenti e in generale quindi tutti i lavoratori è lo smart working, è uno strumento, lavoro agile, uno strumento che noi abbiamo conosciuto, imparato a conoscere ahimè durante la pandemia ma in realtà è disciplinato dalla legge 81 del 2017 e non è altro che una modalità di svolgimento del lavoro senza particolari vincoli di orario e di luogo di lavoro e con l'utilizzo di strumenti tecnologici. Non è da confondere con il telelavoro proprio perché per le sue particolarità e peculiarità può essere svolto in qualunque luogo, in parte all'interno e in parte all'esterno dei locali aziendali. Dopodiché altri strumenti molto più comuni e conosciuti messi a disposizione sono ovviamente la concessione di quelli che sono i premi di risultato, per non parlare poi dei superminimi o anche la possibilità che c'è da parte dell'azienda di far fare i propri dipendenti dei corsi di riformazione ovviamente a carico totalmente dal punto di vista economico dell'azienda in modo da incrementare quelle che sono le capacità e le conoscenze dei propri lavoratori. Grazie a tutti. Grazie a tutti.